Il fin rouge di tutte le persone che mi chiamano è abbastanza univoco. Mi dicono sto un sacco di tempo a leggere, a ripetere e dopo un giorno, due giorni, tre giorni tutto svanito, mi dimentico tutto. La mia domanda è, ha davvero così tanto senso investire così tanto tempo per nulla? Perché davvero è tempo investito per niente, perché se io leggo, memorizzo e poi dopo qualche giorno dimentico, addirittura una volta una persona mi ha detto, guarda, doveva esserci il concorso di TFA Sostegno a giugno. Me l'hanno spostato a settembre, sono disperato perché io ho già studiato tutto e prima di arrivare a settembre avrò già dimenticato tutto ciò che ho studiato. Ha davvero senso. Vieni a scoprire durante un minicorso come raddoppiare già, raddoppiare già nell'arco di due ore la tua capacità di memorizzazione. Si fa proprio un test iniziale di memoria, un test finale, dove in cinque minuti le persone raddoppiano la loro capacità di apprendimento. Vieni a scoprire come riuscire a concentrarti ed essere efficiente ed efficace. Perché la mia domanda è, ma il tuo tempo vale davvero così tanto poco? Cioè, perché le persone continuano a buttarlo via in maniera per me inconcepibile, davvero. E ti faccio un altro esempio. Pensà a studiare libri, 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 ripetendo. Diventa veramente uno sfinimento. Io da sempre ho pensato che le mie energie le voglio dedicare a qualcosa di utile, che le mie energie per me è importante dedicarle e, come si può dire, focalizzarle in modo produttivo. Non ha senso fare le cose per niente e doverle rifare, rifare, rifare. Per quello ti dico, vieni davvero con il cuore a scoprire in due ore e mezza come puoi raddoppiare la tua capacità di memorizzazione. Vieni ad imparare delle strategie di concentrazione. Poi, se tu vai sul canale YouTube Nicoletta Todesco, trovi più di 1500 video raccolti in realtà negli ultimi anni, perché sono 29 anni che faccio formazione, ma all'epoca non c'era la facilità che abbiamo adesso con il telefonino di riprendere. Ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto, datti una possibilità, perché veramente il tuo tempo vale e tu vali. Ciao, 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 ciao.